Allora buonasera a tutti da Marcello, ben ritrovati a questo webinar serale dedicato all'orientamento per il trading con i volumi. Cominciamo subito con un disclaimer, tutte le informazioni diffuse tramite il presente webinar sono a considerarsi solo scopo informativo ed educativo. L'evidenza di setup e o informazioni di trading sono a considerarsi scopo didattico per l'utilizzo della piattaforma. Le presentazioni, slides, considerazioni, dette, trasmesse e scritte a Marcello Bugnoli ed al tendico interico in genere non sono da considerarsi come segnali di trading e o consigli o suggerimenti di investimento di alcun genere. Qualsiasi responsabilità derivante da utilizzo improprio e o errato alle presenti e successive informazioni trasmesse con il seguente webinar non costituiscono sollecitazioni o operazioni finanziarie di alcun genere. Per correttezza, risk disclosure and hypothetical statement, CFTC rules 4.41, questo per gli strumenti americani in particolare, in inglese, se volete leggervelo, ve lo leggete. Allora, titolo del webinar di stasera, dell'incontro di stasera è dedicato all'orientamento per il trading con i volumi. Allora, perché è un webinar dedicato all'orientamento per il trading con i volumi? Perché spesso e volentieri, ultimamente, questa è una cosa che sta pian pianino impattando il settore in maniera, secondo me, poco coerente, se ne sentono di tutti i colori. Si sente chi utilizza un sistema, chi ne utilizza un altro, chi vede le cose in un modo, chi le vede in un altro. Allora, partiamo da un presupposto. Nel mercato tutti hanno ragione e tutti hanno torto, il concetto alla fine della giornata è avere più soldi sul conto rispetto a quelli della mattina. Che poi si faccia tirando i dadi, lanciando la moneta o utilizzando metodi scientifici, a me personalmente non fa differenza. Il concetto è che qui utilizziamo metodi scientifici per strutturare l'analisi dei volumi. Allora, fondamentalmente, che cosa è successo negli anni, no? Partiamo da zero, da quello che tutti noi siamo abituati, o meglio, da quello che siete abituati a vedere nel mondo del trading. Siete abituati a vedere dei grafici, così, se voi aprite la vostra piattaforma con l'Eurostox, ci mettete i volumi e trovate un grafico più o meno simile a questo. Con poche informazioni, trovate le informazioni sui volumi, vero, trovate la quantità di volume per, in questo caso, per candela giornaliera, e finito lì. Ora, che cosa succede? Negli ultimi anni abbiamo sempre più cercato di raffinare tutti quanti nell'industria le tecniche e le logiche operative, spingendoci inevitabilmente in contesti spesso e volentieri sconosciuti o poco chiari ai più. Il mondo dei volumi, in genere, è uno di questi, e non è da nascondere, insomma. La differenza importante è il modo con cui i volumi vengono analizzati e metabolizzati. Il successivo passo che ogni trader, ogni simpatizzante di tecniche basate sui volumi ha fatto, qual è? E' quello di dire, bene, voglio vedere un dettaglio ulteriore. Quindi passo dal mondo dei volumi accumulati per giornata, classica visualizzazione, al mondo dei volumi distribuiti sulle candele. Quindi ogni candela mette in evidenza, per ogni livello di prezzo battuto, le quantità di volume scambiate. E qui si è aperto un mondo, è inevitabile, no? Tutti hanno cominciato a dire, eh, ma caspita, c'è un livello di dettaglio ulteriore, lì si vedono dove hanno lavorato con più volume, con meno volume, lì si vedono dove ci sono zone di interesse. Verissimo, tutto vero. Naturalmente questo tipo di informazione, che è l'informazione base per dare un volto ai volumi, è chiamata distribuzione. Esistono diversi tipi di distribuzione, bilanciata, sbilanciata e non distribuita. Che che se ne dica, tanta gente là fuori si sforza a dare nomi e fare voli pindarici sui nomi delle distribuzioni, ci sono distribuzioni di volume tipo questa, guardatela, ok, tipo questa, che è semplicemente una distribuzione non distribuita, non segue nessuna regola fondamentale, non ha una forma definibile, ok? Quindi fondamentalmente per noi è qualcosa di, diciamo così, di difficile lettura. Poi che là fuori ci sia gente che la legge e riesce a fare numeri mostruosi, chapeau, ben venga per gli altri. Però manteniamoci su un approccio scientifico, la distribuzione dei volumi è il primo passo che ogni trader, ogni simpatizzante di questo mestiere deve compiere per capire come i volumi si vanno a distribuire per livello di prezzo all'interno della sessione. La distribuzione dei volumi, nello specifico, chiamata anche volume profile, che non è il market profile, ci tengo a specificarlo in maniera tassativa, anche se le forme possono essere simili, il volume profile e il market profile sono due parrocchie completamente diverse, una è basata sul tempo, l'altra sulle distribuzioni e le quantità di volume. Componenti principali della distribuzione dei volumi sono sostanzialmente due. L'area valori, che racchiude circa il 70%, non entriamo in valori decimali per sposare le teorie della distribuzione gaussiana e per fare la pappardella da libro accademico. L'area valori, o meglio area, racchiude tendenzialmente il 70% dei volumi scambiati durante il periodo di osservazione. Che cosa significa il periodo di osservazione? In questo caso periodo giornaliero, quindi ogni candela giornaliera è formata dalla sua area valori. area valori che si sviluppa attorno al volume POC, che è univoco per ogni distribuzione, o meglio per ogni periodo osservato, e rappresenta il livello di prezzo a cui c'è stata maggiore quantità di volume scambiato, ed è uno, unico e solo. Come si identifica? Si identifica andando a inserire, per esempio in Ticker Explorer, voglio un POC e velio area locale. Vedete che dall'altra parte si è colorato di un grigio un po' più, diciamo così, secondo me è visibile, si è colorata la velio area. La velio area è divisa in due parti, la velio area superiore e inferiore. Perché vi racconto questo? Perché all'interno della velio area è sostanzialmente concentrata la stragrande maggioranza dei volumi trattati durante la sessione, in questo caso giornaliera. Vedete tracciato di colore giallo il volume POC. Il volume POC è un'informazione che per noi è molto importante, perché mette in evidenza il livello di prezzo al quale c'è stata maggior concentrazione di volumi scambiati. ed è fondamentale. Questo qui è il primo passo che ogni trader, ogni operatore deve compiere per cominciare a entrare un po' più nel dettaglio nel contesto dei volumi. Perché è importante la velio area? La velio area è importante perché ci definisce dove c'è stata maggiore quantità di volume scambiato, maggiori interessi. Se voi andate a prendere un titolo, per esempio, vi rendete conto che sui livelli, chiamiamoli tondi, 2,50, 3,50, 4, 5, 10, eccetera euro, per esempio, piuttosto che per un future 3,300, 3,400, 3,450, eccetera, sono livelli dove inevitabilmente gli operatori scambiano più volume per n ragioni, n motivazioni. ora voi capite che oltre a una visualizzazione localizzata, come può essere in questo caso giornaliera, possiamo anche vedere una distribuzione globale, quindi andare a prendere sostanzialmente a fare un volume profile globale di tutti questi prezzi, che altro non è che quello che noi chiamiamo la statica dei volumi. da dove si inserisce, io qui ve li ho tolti per farvi vedere quelli che sono i passettini pian pianino di ogni cosa che reputo essere utile, adesso qui stiamo lavorando solo con un paio di settimane scarse di storico, però è più che sufficiente per permetterci di capire questo tipo di concetti, a questo punto a sua destra del grafico abbiamo la distribuzione globale, cioè come si sono la rappresentazione di come si sono distribuiti i volumi per livello di prezzo partendo dal 29 di aprile fino ad oggi in tempo reale che è il 21 maggio. E questo è un grande aiuto perché ci permette di mettere in evidenza a livello storico dove si sono concentrati i volumi e proprio su questa considerazione andiamo a prendere in esame le stesse informazioni che abbiamo visto prima. Indicatori Voglio un POC Evelio Area Globale così possiamo identificare con precisione dov'è il livello di prezzo a cui sono stati scambiati più volumi in assoluto che in questo caso è il 3345 riusciamo a vedere dove è il 70% il 68% dei volumi scambiati in questo caso confine superiore dell'Avelio Area 3409 confine inferiore 3305 noi sappiamo perfettamente da studi ma questo non siamo noi di quantiri che non sono io Marcello a raccontarvelo che sostanzialmente il volume POC viene descritto un po' come il punto di equilibrio il punto in cui sostanzialmente si vanno a concentrare in maniera più più corposa le forze e gli equilibri dei compratori e dei venditori punti di maggior interesse personalmente vi racconto una cosa e vi dico che i volume POC sono situazioni non volute a livello istituzionale perché sono situazioni non volute c'è una lunga storia dietro grande filosofia dietro chi ha partecipato ai miei corsi ai miei eventi ha avuto modo di saperlo non è questo il momento nel luogo giusto per spiegarvelo però partite da un concetto diciamo così semplice se vogliamo banale no? fatemi prendere la penna facciamo un colore giallo un po' più evidente ok immaginate di lavorare e di tornare un po' a scuola no? mettete la pallina su un piano dovunque la mandate la pallina prende direzione se siamo su un piano si sposta verso destra o verso sinistra in questo caso siamo in una situazione di equilibrio indifferente e la stessa cosa succede nel mercato so che nel mercato non troviamo una situazione del genere ma troviamo una situazione che spesso e volentieri è fatta in questo modo immaginate questa qui che possa essere la distribuzione dei volumi no? immaginate che il voglio un po' che possa essere da qualche parte qui in mezzo se noi mettiamo una pallina qui sopra che cosa succede? qualsiasi tipo di perturbazione andiamo a fare la nostra pallina tenderà a spostarsi questa è una situazione di equilibrio instabile che cosa significa? che la pallina prenderà spinta fino a quando non troverà una situazione successiva in cui perderà la sua energia e tornerà nella sua situazione questa è la stessa cosa che succede nei mercati e credetemi quando è che invece si definisce un equilibrio stabile esattamente al contrario di quello che abbiamo visto prima quando la pallina è in una situazione del genere e qualsiasi tipo di perturbazione tende a riportare il movimento della pallina sempre nella zona centrale a grandi linee se voi diciamo così provate a mettere in moto la testa e a girare questo tipo di considerazione sul mercato arrivate allo stesso tipo di deduzione le forze in gioco si concentrano inevitabilmente sui voglio un pock anche se i voglio un pock sono livelli non voluti voi dite quello che vorrete in tutte le salse del mondo io qui lo dico e qui lo sottolineo i voglio un pock sono livelli non voluti quante volte vi è capitato di vedere il mercato che tocca il voglio un pock e reagisce con precisione sul voglio un pock guardate il bund che è un mercato molto partecipato sul bund questa cosa qui è assolutamente evidente ma è evidente un po' in tutti i mercati i voglio un pock sono livelli di prezzo non voluti dagli speculatori non voluti dall'industria finanziaria dai grossi player che sono in grado di spalmare contratti non hanno piacere di lavorare sui voglio un pock fate conto di immaginarvi che il voglio un pock possa essere questo mi è venuto in mente durante l'ultimo l'ultimo corso fatto un po' un braccio di ferro nel momento in cui c'è perfetto equilibrio tra le forze nessuno vince nessuno perde ed è una noia bestiale sono tutti lì quando è che il gioco comincia a essere veramente pressante quando da una parte e dall'altra le forze cominciano a spingere in maniera più o meno sensibile in questo caso avviciniamo la stessa informazione nei compratori e venditori indipendentemente da questo abbiamo identificato tre situazioni fondamentali o meglio tre componenti fondamentali che sono essenziali per orientarsi nel mondo dei volumi voglio un pock veglio area divisa in veglio area superiore inferiore distribuzione dei volumi globale e locale voglio un pock e veglio area per la distribuzione statica questo è il tempo zero sono le informazioni al tempo zero quelle che sono diciamo così essenziali da lì parte lo studio dei volumi e da lì parte quel concetto di tipizzazione la tipizzazione che voi vedete rappresentata con due colori ben distinti rosso e verde mette in evidenza esclusivamente la componente attiva del mercato cioè la componente che colpisce il denaro o la lettera il concetto di tipizzazione è stato molto discusso ed è tuttora estremamente discusso ne sento di cotte di crude quello che noi facciamo è abbastanza semplice andiamo a identificare chi colpisce il denaro chi colpisce la lettera se vengono colpiti volumi rilevanti li andiamo a lavorare accumulare per intervallo di tempo e se stanno nello stesso milionesimo di secondo più scambi andiamo a creare sostanzialmente il concetto di ordine quindi identifichiamo la componente attiva del mercato sottolino questa cosa perché perché ad oggi continuano a bombardarmi di email di richieste eccetera eccetera il time and sale la rappresentazione del flusso degli ordini non è vero il time and sale era la rappresentazione di chi viene colpito sul mercato che è ben diverso dalla rappresentazione del flusso degli ordini che colpiscono il mercato la differenza è tanta ed è importantissima aperta e chiusa una parentesi non voglio star qui a fare polemiche quello che mettiamo in evidenza naturalmente per ogni livello di prezzo è diciamo così il flusso degli ordini in maniera leggibile su distribuzione dei volumi quindi andiamo a distribuire per ogni livello di prezzo i volumi sostanzialmente comprati degli ordini che hanno comprato o hanno venduto quindi hanno colpito la lettera per i compratori venduta sul denaro per i venditori andiamo sostanzialmente a rappresentarli con una colorimetria verde per gli acquisti rossa per le vendite stessa cosa nella distribuzione globale sono importanti queste informazioni certo che sì come si leggono esistono tanti modi di vederlo una delle chiavi di lettura più efficienti è sostanzialmente il passaggio della distribuzione dei volumi da distribuzione classica a visualizzazione bid ask cioè che cosa significa voglio vedere esattamente quelli che sono i volumi scusatemi i volumi che sono stati scambiati in denaro o in lettera ok e voglio visualizzarli in maniera numerica questa visualizzazione numerica apre le porte a un'ulteriore visualizzazione che è quella a delta quindi se noi andiamo a mettere barra delta che cosa ci troviamo ci troviamo la prevalenza quindi il delta volume ovvero lo sbilanciamento tra compratori e venditori su singolo livello di prezzo accumulato per l'intervallo di tempo considerato andiamo a concentrare per esempio l'attenzione sul livello di prezzo specifico ok andiamo a vedere per esempio questo livello di prezzo 981 siamo qui 3355 3058 contratti venduti 981 contratti comprati che cosa significa che per questo livello di prezzo c'è o meglio è visibile una forza di venditori più insistente rispetto ai compratori il delta cioè il differenziale è dato da più 981 meno 3058 va da sé che è negativo e se noi andiamo a vedere questi valori ce li troviamo esattamente rappresentati in questo formato questa è una delle evoluzioni delle visualizzazioni diciamo così più o meno utilizzate io personalmente tendo a non utilizzare questo tipo di visualizzazione perché nasconde la reale entità dei volumi cioè quando io mi trovo un'informazione che mi mi trasmette mi dice ah ma benissimo questo livello ci sono 1937 c'è un delta positivo di 1937 che significato ha per me onestamente zero però so che c'è là fuori tanta gente che riesce a identificare pattern vuoti punti di equilibrio insomma chi più ne ha più ne metta perché non è secondo me rilevante perché è un'informazione sintetica questo 1937 realmente potrebbe essere un milione 937 lotti comprati e un milione di lotti venduti ma così facendo nasconde la reale entità quindi prima di passare a questo tipo di visualizzazioni è sempre buona cosa capire che cosa si sta guardando e soprattutto in che dimensioni in che salsa stiamo guardando le informazioni personalmente io consiglio a chi si sta avvicinando di utilizzare i profili dei volumi e di concentrare l'attenzione non tanto sui vuoti volumetrici bla bla che se ne sentono di cotte di crude quanto sui nodi di volume i nodi di volume chiamati anche dall'inglese HVN HVN high volume nodes sono livelli palesemente livelli di prezzo palesemente trattati in termine volumetrico che però si differenziano dal volume POC che è univoco quindi potremmo avere più nodi di volume sia all'interno della stessa distribuzione dei volumi che all'interno di una distribuzione dei volumi statica o globale vi faccio l'esempio di quello che può essere un nodo di volume questo è 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 un nodo di volume naturalmente se vogliamo fare i pignoli andare dentro a ogni dettaglio voglio dire possiamo spingerci fin dove la nostra discrezionalità ci accompagna però ecco sono livelli di prezzo particolarmente visibili e particolarmente caratterizzati da quantità di volume visibile attorno a livelli meno trattati sul giornaliero questa cosa si vede spesso e volentieri sulle giornate particolari questo qui è un nodo di volume per esempio guardiamo la distribuzione non distribuita dell'altro giorno questo è un nodo di volume questo è un nodo di volume questo è un nodo di volume come questo è il volume POC voi vedete che ci sono tanti punti quindi io vi consiglio di concentrare l'attenzione su quei livelli di prezzo per capire effettivamente che cosa è successo ora che cosa è successo voi capite che voglio dire se uno avesse la sfera di cristallo probabilmente potrebbe avanzare qualche tipo di ipotesi il motivo per cui vengono scambiati tanti volumi a livelli di prezzo purtroppo sfortunatamente o fortunatamente non lo sappiamo però la cosa importante è identificare questi livelli di prezzo i livelli di prezzo i nodi di volume e i voglio un POC sono per quello che riguarda la mia operatività molto importanti perché mi permettono di definire e profilare position sizing e risk management cioè io vado a identificare livelli in cui lavoro sia in termini di position sizing che in termini di gestione di rischio e rendimento sulla posizione questa è un'altra storia è più legata alla componente operativa e personalmente penso che si possa scrivere altro che un libro quasi un'enciclopedia su sta su sta roba qui quindi c'è molto da lavorare su questi concetti e non è sicuramente un webinar serale che mi permette sfortunatamente di spiegarveli nel dettaglio però una cosa che per me è fondamentale è quell'identificazione di questi punti da lì poi abbiamo personalmente in quanti ricche abbiamo esteso tutte le nostre informazioni abbiamo messo i punti di concentrazione ci siamo spinti su tante cose che io reputo essere fondamentali ma sono già di livello più avanzato ora torniamo un attimo a quella che è la modalità visiva che secondo me è importantissima spesso e volentieri siete tutti più o meno abituati a ragionare in termini di tempo grafici a 5 minuti 15 minuti 30 minuti 1 ora 240 minuti 120 minuti chi più ne ha più ne metta questo che cosa significa che spesso e volentieri avete dei desk con 2, 3, 4, 5 grafici chi più ne ha più ne metta e questo è caotico crea confusione confusione che è non necessaria è ridondante più roba avete davanti agli occhi e meno fulminei siete nel ragionamento quando si deve andare a mercato servono poche informazioni chiaramente interpretabili poiché siano giuste o sbagliate è il risultato dell'operazione però se avete una quantità di informazioni enorme con 3.000 grafici a tutti i time frame immaginabili possibili secondo me vi si crea uno stato di confusione mentale molto forte che non deve succedere scusatemi non deve succedere perché nel momento in cui andate a mercato per forza di cose vi trovate delle situazioni conflittuali quindi poche informazioni chiaramente leggibili e facilmente interpretabili io personalmente ma questo è un modo che ho di vedere la mia attività di speculazione sui mercati finanziari con i volumi è basata sui grafici a ordini adesso vi metto di fianco un grafico a ordini peraltro state vedendo diciamo così quella che sarà la nuova o meglio una nuova versione con alcune modifiche sulla piattaforma vi portate un attimo di pazienza gestisci gli strumenti andiamo a prenderci il nostro caro DAX un attimo di pazienza ok andiamo a prendere per esempio le giornate di non so dal 13 di maggio a oggi con la visualizzazione partiamo con i 2500 ordini sul DAX poi adesso vi spiego perché secondo me gli ordini sono fondamentali e se vi approcciate a questo mestiere in maniera seria e strutturata a un certo punto noterete che il concetto di ordine vi trasmette molte più informazioni rispetto al concetto di tempo attenzione chi fa analisi ciclica chi fa analisi su dei pattern specifici rimanga sui minuti sui giorni sulle ore sulle 4 ore le 6 ore quello che vi è stato inculcato nella mente il mio obiettivo non è crearvi confusione ma trovare soluzioni essere diciamo così proattivo e proporre soluzioni questo qui è un grafico a 2500 ordini sul DAX perché per me è importante un grafico ordini perché mi rappresenta la componente di ordine attivo che colpisce il denaro o la lettera ed è ben diversa dai TIC se noi andiamo a prendere vi faccio l'esempio lo stesso grafico adesso lo metto a TIC così lo vedete vedete proprio la differenza lampante e palese 2500 ordini 2500 TIC ve li metto proprio uno di fianco all'altro così li potete vedere proprio in maniera chiara apparentemente voi mi dite ma Marcello sono uguali sì vero però osservate una cosa guardate com'è più rarefatto il 2500 TIC rispetto al 2500 ordini guardate quanto rumore c'è in questo tipo di grafico perché il 2500 TIC rappresenta la componente passiva cioè quella che viene colpita nel mercato che onestamente detta come va detta a me non interessa e non dovrebbe fondamentalmente interessare neanche a voi chi vi dice studia l'order flow e guarda il time and sale vi racconto una delle più grandi bagianate che esistono l'order flow è una cosa il time and sale rappresenta i TIC il time and sale è rappresentativo di questa visualizzazione nell'order flow è rappresentativo di quest'altra visualizzazione il concetto di visualizzazione o di vista ordine è importante perché mi permette di capire la velocità con cui gli ordini che colpiscono il denaro e la lettera stanno lavorando va da sé che se vedo lo sviluppo di candele consecutivi in maniera molto veloce ho la percezione di un mercato che è trattato dai compratori o dai venditori in maniera insistente diversa è la storia dei TIC dove voglio dire può essere trattato anche in maniera insistente ma se dall'altra parte ci sono per ogni livello di prezzo qualche centinaio se non qualche migliaio di controparti che devono assorbire l'ordine voglio dire a me lascia un po' di insipido però poi questa cosa qui ve la dovete in un certo senso metabolizzare voi io personalmente utilizzo tantissimo gli ordini vi suggerisco di guardare sempre a ordini perché gli ordini trasmettono tante più informazioni rispetto a quelle che si possono ottenere approfitto a rispondere a una domanda naturalmente sia anche con gli ordini si possono identificare tutte le varie informazioni tipo io voglio un po' che voglio area locale questo tipo di informazioni soprattutto nei grafici in 3day è essenziale adesso non vi faccio vedere come funzionano le estensioni dei volume po' però vi faccio vedere per esempio tra i vari indicatori quello che abbiamo sviluppato ci abbiamo impiegato diversi anni onestamente abbiamo sviluppato i punti di concentrazione i punti di concentrazione sono sostanzialmente un voglio dire rappresentano un livello di prezzo identificato attraverso un algoritmo nostro proprietario che lavora in triplice dimensione senza entrare in paroloni in tara tapioche identifica un livello a cui c'è stata maggiore attività e intensità delle mani forti ora perché sono rilevanti questi livelli di prezzo perché ci permettono di identificare delle zone operative tipiche dei grossi speculatori voglio dire questo fino a qualche anno fa era un sogno noi riusciamo a svilupparlo perché metabolizziamo a ogni singolo livello di scambio a ogni singolo prezzo e quantità scambiate e andiamo a analizzarla nel dettaglio quindi rappresentiamo per ogni visualizzazione in questo caso è il 2500 ordine sul DAX tutti i vari livelli adesso vi faccio vedere una novità di questa versione che è la 256 a uso interno quindi non la vedrete fuori con questo nome ma la vedrete in un altro in un altro contesto vi faccio vedere come funziona la concentrazione dei volumi vergini che cosa significa la concentrazione dei volumi vergini significa la possibilità di mettere in evidenza i livelli di prezzo a cui gli istituzionali o meglio le mani forti hanno lasciato delle tracce specifiche ben visibili e ben identificabili questi qui sono i nostri livelli operativi sostanzialmente ragazzi per chi mi segue qui siete in diversi del gruppo rappresentano un po' l'analisi che io faccio tutti i giorni partendo dal grafico giornaliero identifico esattamente tutti i livelli di prezzo vergini cioè non ricoperti dal mercato e vado a tirare delle linee orizzontali per definire eventuali livelli di prezzo a cui io non so onestamente cosa succederà ma posso fare delle ipotesi per il semplice motivo che nel momento in cui il prezzo dovesse mai raggiungere un punto di concentrazione scoperto so perfettamente perché questo ve lo dice Marcello con un approccio scientifico che il prezzo reagirà reagirà per il semplice motivo che le mani forti hanno difeso o hanno creato quel livello di prezzo trattando in maniera molto forte e con un'intensità superiore a quella che è la norma queste sono le informazioni che secondo me sono fondamentali insieme alle informazioni fondamentali non bisogna dimenticare quello che è diciamo un classicone per esempio il delta volume il delta volume altro non è che una formazione a candlestick scusatemi classica candlestick con partenza zero e sviluppo in positivo o in negativo in funzione dei volumi acquistati o venduti quindi se noi andiamo negli indicatori a mettere un canonico delta volume ci troviamo in un contesto di questo genere dove abbiamo positività e negatività in funzione di quello che è l'andamento dei compratori e dei venditori ora voglio dire senza entrare troppo nel dettaglio è abbastanza facile da capire dove c'è prevalenza di vendite si creano delle accelerazioni positive e negative negative per le vendite positive per gli acquisti naturalmente e anche in questo contesto si possono identificare dei pattern di rotazione solitamente estremamente precisi i pattern di rotazione altro non sono che i passaggi di mano di contratti tra i venditori e i compratori oltre a questo che è un'informazione già di per sé molto rilevante ci sono alcune chiavi di lettura che secondo me sono importanti che sono gli eccessi nello sviluppo della giornata torniamo indietro guardiamo un altro momento perfetto guardate questa giornata qui ok siamo alle nove della mattina il mercato si è sviluppato c'è stato un eccesso il giorno prima e via dicendo non sappiamo dimensionalmente quanto può essere un eccesso come lo identifichiamo sull'ampiezza della sessione delta volume questa è un'altra cosa che abbiamo inserito in questa nuova versione che sostanzialmente ci permette di capire dove sono localizzati gli eccessi vedete a ogni massimo dei valori di delta o ogni minimo andiamo a creare un nuovo massimo un nuovo minimo per cui riusciamo a identificare con precisione qual è il momento in cui il mercato è fortemente diciamo così in ipercomprato in ipervenduto in termini dimensionali di contratti e questa è tanta roba è tanta tanta roba è tanta informazione perché sugli eccessi si creano dei pattern ben specifici che sono assolutamente trattabili e rilevanti poi c'è chi li utilizza chi non li utilizza io personalmente utilizzo moltissimo gli eccessi di delta e le rotazioni di delta le rotazioni per le inversioni di mercato e gli eccessi di delta scusate per diciamo così operazioni di controtrend vi faccio un esempio su questa situazione specifica ok è ben visibile una rotazione eccola qui contratti che passano di mano in mano dai compratori ai venditori mercato reagisce i venditori accelerano mercato accelera voi mi direte ma Marcello ti piace vincere facile bocce ferme sono capaci tutti va bene mettetela come volete io queste informazioni le vedo in tempo reale le gestisco in tempo reale e ci faccio trading in tempo reale quindi non è nulla di diciamo così fantascientifico sono semplicemente numeri e interpretazione dei numeri punto e basta queste sono le componenti essenziali del volume da questo si possono derivare altri 23.000 tipi di indicatori tra cui uno di quelli che io utilizzo più di tutti è la frequenza degli ordini che vi faccio vedere non tanto su un grafico a 2500 ordini ma ve lo faccio vedere su un grafico che per me è il grafico operativo che è un classicone scusatemi il termine che è un 50 ordini a me piace lavorare su grafici veloci ho abituato il mio occhio e il mio modo di vedere le cose sempre sullo stesso tipo di scenario grafico in questo caso stiamo visualizzando un 50 ordini sono due giorni quindi lunedì e oggi mi piace il 50 ordini mi sono abituato a vederlo lo mastico costantemente ed è il mio diciamo così il mio time frame operativo che è quello su cui vado a lavorare a prendere la decisione finale proprio su questo vado a inserire quella che è il calcolo della frequenza degli ordini ci va bene un 30 secondi e vado a identificare in maniera molto chiara ma sulla frequenza degli ordini ho già fatto altri webinar non vorrei spendere troppo tempo su questo vado a identificare nel momento in cui devo entrare nel mercato o anche uscire ma principalmente nel momento in cui devo fare qualcosa ho deciso di fare qualcosa vado a identificare qual è la situazione nel mercato è un mercato che frigge che è carico che si sta muovendo velocemente su cui c'è interesse voglio lavorare è un mercato che è scarico onestamente non mi interessa rimanere incastrato nel mercato per magari delle mezze giornate quindi preferisco lavorare unicamente dove ci sono questi diciamo così picchi di frequenza stessa considerazione fatta per il delta in questa nuova versione c'è l'ampiezza della frequenza degli ordini con lo stesso tipo di criterio adesso poi tutte queste informazioni qui le vedete disegnate ma ogni sessione mette sostanzialmente in evidenza due linee che mi rappresentano i punti di massimo della frequenza degli ordini raggiunta all'interno della sessione vedete che in questa situazione specifica alle 11 18 33 se per qualche strana ragione io questo non lo so per quale motivo alle 11 18 33 qualche operatore istituzionale perché credetemi questa è unicamente operatività di caratura istituzionale sono macchine macchinette algoritmi chiamateli come volete a un certo punto ha impattato con una frequenza dei compratori ha impattato quindi ha colpito la lettera in maniera rilevante creando addirittura un massimo sulla frequenza intraday vedete che in corrispondenza dei massimi e dei picchi dei massimi sostanzialmente e in maniera molto precisa al mercato tende a fare dei pullback quindi a rientrare sulle sue situazioni quanto dimensionalmente sono rilevanti questi pullback sfortunatamente ragazzi io questo non lo so so solo che lì succede qualcosa e tendenzialmente quando c'è un picco quindi un eccesso di frequenza dei compratori si crea un punto di swing e quindi un potenziale swing ribassista anche di breve diciamo così dimensione ma uno swing ribassista viceversa quando c'è un picco di frequenza dei venditori tende a crearsi uno swing rialzista questa è un'altra informazione qualificata anche qui dal delta periodo che altro non fa che visualizzare o meglio dare una dimensione o una faccia a questa informazione perché voi capite che a questo punto va bene è tutto bello dire ok i compratori stanno comprando con molta più frequenza ma potrebbero essere voglio dire delle raffiche di piccolo calibro mentre i venditori potrebbero lavorare con meno frequenza ma con grosso calibro questo chi me lo conferma me lo conferma al delta rolling o delta mobile se noi andiamo vedere il delta periodo lo impostiamo sempre a 30 secondi osserviamo proprio questo tipo di informazioni in questo caso vedete che il movimento rialzista che era innescato dalla frequenza dei compratori già alle 11 16 e 22 ha spinto con un delta positivo il mercato fino alle 11 18 e 40 poi c'è stato un taglionetto e quando le macchinette sostanzialmente tagliano la loro attività il taglio è molto netto e ben visibile c'è stato un taglio netto e diciamo così i volumi il delta volume dei compratori è sceso e si è quasi completamente alzerato stessa considerazione la possiamo fare anche in questo contesto ampiezza del delta periodo sempre a 30 secondi uniamo le informazioni e vediamo nell'evoluzione della giornata come si sviluppa questo delta periodo io so perfettamente che a fine giornata naturalmente adesso lo so perché siamo a fine giornata tra virgolette però durante l'evoluzione della giornata immaginiamo di essere a mezzogiorno io so perfettamente che se devo ragionare su un picco di frequenza su un eccesso di frequenza devo ragionare su 147 ordini in 30 secondi per i compratori e 103 ordini in 30 secondi per i venditori quindi ho una dimensione ben precisa così come ho una dimensione ben precisa del delta volume che si è creato in questo contesto in questo contesto di spinta di frequenza dei compratori il delta volume quindi lo sbilanciamento che hanno creato rispetto ai venditori è stato di 259 lotti scusate se voi andate a prendere i mercati americani l'S&P il Nasdaq il petrolio i bond americani e ragazzi chi utilizza Ticker Explorer può accedere anche ai bond americani il 30 anni il 10 anni l'ultra bond guardateli perché sono mercati spettacolari non vi fermate al DAX date a vedere anche quei mercati siate curiosi di vedere come funzionano anche quel tipo di mercati perché sono perfetti hanno dei volumi delle frequenze delle operatività incredibili detto questo in qualsiasi contesto in qualsiasi momento ho dimensionalmente la capacità di interpretare tutte le informazioni che capisco che viste dall'altra parte in un webinar di 50 minuti un'ora possano sembrare una quantità di informazioni incredibili e fondamentalmente lo sono però nel momento in cui si riesce a creare una chiave di lettura grafica di queste informazioni beh voglio dire a quel punto lì il passo è è fatto insomma non ho più bisogno di spingermi ulteriormente ad andare a cercare chissà cosa ho già tutte le mie informazioni ben visibili ho i miei punti di concentrazione vergini tracciati automaticamente dalla piattaforma ho i miei picchi di volume guardate per esempio questo picco di volume questo picco di frequenza e picco di delta i compratori sono usciti forte a un certo punto i venditori si sono svegliati all'improvviso qui siamo su un grafico di brevissimo i venditori si sono svegliati all'improvviso hanno detto oh comprano a manetta naturalmente ricordatevi la storia del braccio di ferro comprano a manetta quindi dall'altra parte ci deve essere una forza che prova a sovrastare qui i venditori sono arrivati un po' più in ritardo però in un picco di frequenza che cosa hanno fatto il mercato che cosa ha fatto ha fatto una correzione quasi istantanea questa informazione per me è essenziale in tante chiavi di lettura una tra queste è il momento dell'uscita perché ragazzi ricordatevi una cosa là fuori tutti parlano di entrare nel mercato di fare di brigare il setup e la confluenza a destra e sinistra ma fermatevi a riflettere chi vi parla dell'uscita del mercato questa è una domanda che io vi faccio nessuno o pochissimi perché perché talmente aleatori e talmente esposta a rischio di dire degli sfondoni e delle stupidaggini che la gente non si vuole esporre però sfortunatamente per voi e per noi e per tutti i soldi si fanno quando si esce dal mercato non quando si entra si fanno o si perdono quando si chiude la posizione non quando si apre la posizione e questo è importantissimo ok è un'informazione veramente rilevante quindi io utilizzo sostanzialmente questo tipo di formazione grafica che mi permette di identificare in maniera chiara essenziale rapida veloce pulita quelli che sono i miei livelli operativi e i miei punti in cui io posso creare a priori position sizing posso scegliere se prendere l'operazione perché magari ho un rischio e un rendimento che è accettabile o non accettabile 1 a 1 1 a 0 8 1 a 0 5 sono io a scegliere però ho già una mappa mentale che si sta sviluppando in tempo reale approfitto a rispondere a alcune domande allora sostanzialmente rispondo velocemente senza leggere la domanda che è abbastanza lunga nella mia operatività io tendo a fare meno operazioni possibili e più precise possibili mentre una volta facevo un'operatività molto spinta con tante operazioni negli anni mi sono diciamo così sviluppato un modus operandi più pratico più pragmatico e voglio lavorare solamente nei momenti in cui ho consapevolezza che il mercato ha qualcosa da offrirmi questo è il punto zero quindi non faccio 3.000 operazioni al giorno non le voglio più fare non fa più per me penso che queste cose qui le devono fare i giovani i giovanissimi con freschezza mentale e lasciamo spazio ai diciamo così ai trader più vaccinati come possiamo essere noi della vecchia guardia come posso essere io di lavorare solamente quando il mercato ha qualcosa da offrire questa è una regola che mi sono imposta da un modus operandi che diciamo così ho sviluppato ho imparato ho capito probabilmente troppo tardi nel senso che quando ti ritrovi in un anno a passare talmente tante operazioni capisci che probabilmente devi segmentare un po' i lotti quindi opero solo ed esclusivamente quando gli scenari me lo permettono operi in breakout no tendenzialmente non opero in breakout i breakout li lascio fare agli altri a me non piacciono i breakout anzi regola 12 del mio regolario che ho scritto probabilmente nel 2003 all'ingresso del mio ufficio sui massimi e sui minimi tendenzialmente non si lavora né in un senso né nell'altro perché è questo? perché si creano delle forze talmente concentrate e talmente specifiche che diventa diciamo così più stile scommessa a fare qualsiasi cosa che altro i volumi peraltro mi hanno permesso di osservare proprio questo tipo di considerazioni vi faccio vedere peraltro l'utilizzo dell'indicatore che mette in evidenza il range del giorno precedente che da cui poi ho imparato a gestire questo tipo di informazioni che sostanzialmente metti sostanzialmente scusate metti in evidenza l'atteggiamento dei compratori e venditori sulle rotture dei massimi o dei minimi questa è stata la rottura di ieri siamo ieri 20 maggio 10 e 55 02 mercato collassa verso i minimi arriva sui minimi i trader da breakout che cosa hanno fatto vai a lavorare sul break dei minimi rompi i minimi sbraga tutto vendi quanto un tick due tick sotto i minimi eccoli qua spazzati via stoppati ripetuto stoppati ripetuto la danza degli stop qui è stata ancora più evidente vai a lavorare sempre sui minimi benissimo vai a lavorare pure in breakout rotture in breakout e mercato che ricopre sempre costantemente vediamolo dal punto di vista dei volumi guardate i breakout con quanto poco volume vengono effettuati sapete che cosa vuol dire questo vuol dire che i breakout sono dei trappoloni di liquidità la liquidità viene tolta e messa istantaneamente credetemi alla velocità della luce non esiste nessuno al mondo che possa leggere un book sui futures nelle condizioni di breakout sfida aperta a chi riesce a leggere i numeri non esiste ma non è che lo dico io perché sono Marcello perché dico una cosa forte lo dico perché immaginatevi che il book sull'S&P arriva a spararci svariate migliaia di messaggi al secondo durante l'apertura del mercato sapete quanti messaggi al secondo sono migliaia di messaggi al secondo sono un numero gigantesco oggi i monitor hanno un refresh rate che è standardizzato a millisecondo voi capite che la nostra industria sta andando avanti a milionesimo di secondo quindi l'informazione che spesso e volentieri si vede è un'informazione rarefatta e questi buchi questi vuoti di volume li vedete solo ed esclusivamente lavorando con delle piattaforme come Ticker Explorer che mettono in evidenza i livelli che vengono colpiti gli ordini attivi che colpiscono il mercato non certo i passivi che erano lì pronti magari a fare qualsiasi altra cosa ok bene quindi si non opero tendenzialmente non mi piace operare sulle rotture è un tipo di operatività che non faccio preferisco visto che di strumenti ce ne sono talmente tanti preferisco lavorare su altri strumenti quando vedo il mercato sui massimi e sui minimi c'è una domanda sulla segmentazione della dimensione degli ordini non è questo il webinar adatto però è giusto sapere che attraverso Ticker Explorer è possibile segmentare gli ordini che cosa significa significa aprire un grafico per esempio del DAX e filtrarlo per magari gli ordini maggiori di che ne so 19 contratti quindi dal ventesimo in poi ne ho parlato a bizzeffe su tutti i webinar in tutte le salse è una funzionalità di Ticker Explorer che ci permette di capire esattamente dove le forze di acquisto di vendita si stanno concentrando attenzione ai trappoloni perché qui bisogna avere una chiara chiave di lettura di questi ordini perché che ne dicano là fuori gli ordini sono di tre tipi sono gli ordini di acquisto gli ordini di vendita e gli ordini neutri gli ordini neutri che impattano il mercato chiamiamoli ordini tra istituzionali chiamiamogli scambi ai blocchi chiamateli come volete c'è chi addirittura disegna gli scambi fuori book insomma ce n'è di tutto e di più non sono rilevanti perché non ci permettono di definire una direzione se io e Andrea ci mettiamo sul book e ci diciamo benissimo Andrea devo comprare 238 lotti di dax Andrea mi dice oh Marcello dai ce li ho in pancia perché sono un market maker te li vendo io io e Andrea ci mettiamo d'accordo e sul mercato ci scambiamo questi contratti che significato ha da un punto di vista pratico nessuno perché non c'è una direzione non c'è una componente che prevale no un braccio di ferro non c'è nessuno che prevale sta lì Andrea e Marcello si sono scambiati 238 260 7.422 lotti di mercato frega niente non ci danno un'informazione rilevante toglietevi dalla testa questo tipo di rumore perché questo non vi serve i filtrati di Ticker Explorer sono estremamente utili perché quando un giorno se vorrete dar fiducia a quella che è la piattaforma Ticker Explorer e soprattutto al mio metodo e al mio modo di vedere i volumi andrete a utilizzare il flusso degli ordini vi renderete conto esattamente di come questa tipologia di ordini va a distribuirsi sul mercato questo qui è il flusso degli ordini filtrato personalmente io utilizzo il filtrato un po' dappertutto prima di tutto perché ho la possibilità di utilizzarlo ed è un'informazione che gli altri non vedono quindi oro secondo perché il filtro sugli ordini mi permette proprio di di identificare queste finte questi scambi vedendoli così altro non sono che ordini superiori a una certa dimensione ma come facciamo a definire se sono ordini di scambio o no l'altro giorno si vedevano transitare costantemente i 100 DAX chi ha seguito il DAX con Ticker Explorer scusate mi si è reso conto proprio di questa informazione di questi ordini da 100 DAX quanti erano scambi istituzionali ragazzi sveglia cioè sul mercato sul book nessuno mette 100 DAX e se qualcuno mette 100 DAX questi 100 DAX vengono eseguiti cioè assorbiti con un solo ordine con un solo scambio beh voglio dire o dall'altra parte c'è qualche matto che riesce a velocità della luce a identificare i 100 lotti di DAX e a colpire esattamente 100 lotti o se no sono scambi tra le parti questa informazione la vediamo così rispondo anche a questa domanda attraverso il numero di TIC che vengono colpiti nella controparte e il rapporto volumetrico il rapporto volumetrico ci permette di identificare se lo scambio è di caratura retail o meglio fatto no caratura retail è sbagliato se lo scambio è uno scambio di tipo polverizzato o è uno scambio di tipo istituzionale che cosa significa o meglio se è uno scambio di mercato più il livello del rapporto volumetrico tende a 100 più la controparte è istituzionale quindi io vado a colpire l'Andrea di turno che sta lì sul mercato pronto a essere la mia controparte nello scambio più il rapporto volumetrico è piccolo più c'è polverizzazione della controparte che cosa significa guardate questi 65 lotti comprati in Asca le 18 01 55 51 hanno colpito 43 controparti va bene sono le 18 va bene tutto ma questo è un ordine di acquisto bello e buono infatti il rapporto volumetrico è pari a 9 adesso oggi ci sono pochi casi perché è stato sostanzialmente un mercato tra virgolette lento poco movimentato ma se andiamo a prendere anche solo una giornata ieri o prendiamo le giornate la settimana scorsa spesso e volentieri si vedevano proprio il 100% tondi ma su lotti e dimensioni importanti rispondo all'ultima domanda sì sono i massimi e i minimi attenzione del filtrato quelli che vedete qui quindi sostanzialmente quando si vedono sul flusso degli ordini le righe riempite di verde vuol dire è l'attività dei filtrati che ha colpito i massimi del filtrato ok facendo nuovi massimi quando invece si vede la strisciata rossa adesso non ce n'è nessuna perché oggi le mani forti hanno lavorato solo sui sui massimi nella situazione opposta quando vengono fatti nuovi massimi o nuovi minimi in questo caso nuovi minimi viene riempita di rosso se invece vengono colpiti i minimi senza fare nuovi minimi viene semplicemente bordata di rosso ragazzi ci sono tantissime domande il tempo vola abbiamo già fatto un'oretta e cinque di presentazione io a questo punto mi sento di chiudere la presentazione per oggi se ci sono domande dubbi e perplessità oltre a quelle che mi avete segnato vi suggerisco di darmi un colpo di telefono di provare la piattaforma di essere curiosi nello sperimentare questo tipo di informazioni perché sono le chiavi di lettura che oggi ci permettono di essere efficienti e funzionali sul mercato e credetemi Ticker Explorer ha tutte le caratteristiche per rispondere proprio a queste moderne chiavi di lettura è una piattaforma che abbiamo fabbricato e sviluppato in Italia siamo a Ferrara abbiamo un ufficio una sede fisica esistiamo quindi non siamo non lavoriamo dal da casa insomma abbiamo una sede fisica abbiamo una realtà siamo persone quindi fatevi sentire a me fa più che piacere condividere questo tipo di informazioni e perché no anche suggerimenti e niente ragazzi a questo punto io vi saluto vi auguro una buona serata vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar siete stati veramente attivi ho visto tante domande grazie 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 ci vediamo e ci vediamo presto un saluto da Marcello ciao a tutti grazie grazie grazie